Buonasera a tutti, io devo ammettere che sono parecchio emozionato per questo incontro perché rappresenta tante cose che mi riesce quasi difficile inanellare in sequenza che non sarà sicuramente cronologica e parto dall'abbraccio che ho appena dato a Davide e Matteo che sono alla mia sinistra perché è la prima volta che ci incontriamo fisicamente visto che ci siamo incrociati virtualmente diverse volte, che facciamo delle operazioni simili ma non ci siamo mai conosciuti di persona quindi vorrei iniziare salutandoli calorosamente come ho fatto con questo abbraccio che dopo farò ancora più stretto e più forte perché mi fa molto piacere conoscerli finalmente e fare in modo che questo sia una condivisione di cammino visto il tema e visti i passi che condividiamo in terre diverse ma che comunque vanno nella stessa direzione L'altro punto è il luogo che è l'Istituto dei Ciechi di Milano dove ho conosciuto Francesco ormai diversi anni fa e che poi ci ha fatto incrociare di nuovo l'anno scorso per dare poi inizio a quello che credo sia uno dei fiori e l'occhiello di Noisy Vision che è il cammino che abbiamo fatto a settembre del 2023 anche a Leo piace giallo dove per la prima volta abbiamo fatto camminare nella modalità che abbiamo sentito raccontare questa sera dei ragazzi adolescenti quindi dei minorenni proprio nella modalità inclusiva dove alcuni dei loro coetanei erano gli accompagnatori se così si può dire comunque i compagni di viaggio di altri ragazzi che invece avevano delle disabilità visive abbiamo camminato dall'Eco a Milano anche con il patrocinio dell'Istituto dei Ciechi di Milano proprio anche grazie al direttore Franco Lisi che ha abbracciato sin dall'inizio questa iniziativa L'altro punto importantissimo sono le persone presenti perché ci sono Giulia, Irene, Francesco, Florinda, Marina, Antonella che sono compagni di questo straordinario viaggio nel deserto che è uno delle storie di questo libro e che secondo me è stato uno dei viaggi più straordinari dell'associazione di quelli che abbiamo fatto con Noisy Vision proprio per la diversità di questo paesaggio di questo territorio e di questo cammino che era non solo sulla sabbia che è il titolo del racconto ma anche su altri tipi di terreno e di suolo che uno non si immagina magari di trovare nel deserto perché l'immagine più caratteristica più riconosciuta è quella delle dune quindi vorrei ringraziare appunto loro che sono venuti fin qui e tutti gli altri che ringrazieremo dopo con una foto di gruppo e manderemo nella chat che abbiamo ancora in condivisione per salutarli qui da Milano che è sicuramente un punto di incontro tra diverse strade che si incrociano e si incrociano forse proprio grazie a questo libro che guarda caso ha un titolo che si chiama Passo Lento senza la A Passo Lento che ricalca in qualche modo un libro che ho scritto nel 2008 che si intitola Tempo Lento quindi c'è questa vicinanza di titoli di un libro che è andato un po' nel dimenticatoio che ha rispolverato Marina portandolo proprio un mese fa di nuovo sulle dune del deserto portandolo con sé in un viaggio che ha fatto di nuovo nel deserto quindi questo titolo di libro molto simile i passi e il tempo che sono i due ingredienti dei cammini quindi anche in questo caso quando tra l'altro non ci avevo inizialmente nemmeno fatto caso perché mi ero quasi dimenticato di questo libro che chissà ci avrà una seconda vita e quindi di nuovo un altro punto di contatto con il 2008 che quindi è l'anno che porta la risposta di quello che mi avevi chiesto tu Francesco e cioè il 2008 è l'anno sì di uscita di questo libro ma è anche l'anno in cui sono partito per un lungo viaggio in barca e sono andato appunto in mezzo all'oceano dove c'è un altro deserto che è quello del mare la dice Marina nel video che abbiamo ascoltato deserto e mare hanno qualcosa in comune che è l'infinito, che è le grandi distanze che è il movimento sinuoso delle onde ora di sabbia, ora di acqua e quindi anche in quel caso avevo trovato il vuoto quindi la risposta che ho dato ad Antonella in mezzo a quella piana desertica mi ricordo benissimo eravamo seduti su uno sgabellino lontani dalle tende per cercare un po' di isolamento appunto dal campo e dalla vita di campo ci siamo seduti lì e io ho risposto sono venuto a cercare il vuoto perché credo che proprio nel vuoto si ritrovino alcune risposte ma non necessariamente perché si hanno delle domande ma perché semplicemente delle risposte ovvero delle idee arrivano spontaneamente proprio perché si riducono gli stimoli gli stimoli sensoriali quindi camminare è un po' come essere camminare sul deserto sulle dune è un po' come essere marinai della terra e quindi quell'ondeggiare che viene dal movimento di una nave sull'acqua diventa invece un passo che si distilla quasi diventa l'unica cosa possibile l'unica cosa da fare abbiamo portato la pioggia nel deserto grazie alle nostre danze intorno al fuoco che forse pioggia non si può chiamare per quell'acqua che necessiterebbero quelle terre però abbiamo avuto anche vento tanto vento e sole quindi questi sono sicuramente gli elementi naturali che amplificano le sensazioni che si provano camminando ma che comunque sono così pure quasi da essere appunto una componente aggiuntiva a quella dei passi quindi si hanno veramente la possibilità è questo forse che uno che porta le persone ad innamorarsi del deserto questa capacità di questa terra di essere quasi come il mare cioè di purificare tutto il resto di portare tutto all'essenziale il cammino nel deserto è stato questo ma queste sensazioni le si ritrovano anche in altri cammini io sono freschissimo di cammino vengo dalla Calabria letteralmente due giorni fa ero a Reggio Calabria dove abbiamo concluso il sentiero dell'inglese e in quel caso le sensazioni così pure sono comunque possibili perché ci sono paesi che sono completamente o quasi disabitati e quindi questo mi fa ricollegare forse al cammino sulle terre mutate che personalmente non ho fatto ma che penso che possa avere qualcosa in comune con questi territori che cercano di ripartire e di avere qualcuno che rimane lì aggrappato alla speranza che si possa ripartire e ci sono organizzazioni che cercano proprio di connettere questi territori così come Said e Marina hanno fatto nel deserto cercando di far diventare il cammino uno strumento per far vivere della gente così nelle terre mutate e anche nel sentiero dell'inglese ma anche nel cammino dei briganti i cammini diventano uno strumento per raccontare delle storie per far arrivare delle persone per far muovere un'economia quindi noi in qualche modo con queste nostre storie con questo nostro cammini contribuiamo a questo e forse creiamo una narrativa che ha anche un interesse particolare per questi territori perché proprio adesso in Calabria raccontare la storia dei cecchi e gli ipovedenti che camminano è una storia aggiuntiva una storia nuova quindi anche la stampa muove un incerto interesse anche nella stampa che quindi rilancia storie già sentite per riproporre una cosa forse nuova per i territori noi in Calabria eravamo sicuramente il primo gruppo di persone cieche ipovedenti che camminavano e inizialmente questa storia viene vissuta con una certa così trepidazione e anche agitazione se così si può dire perché chi non ha mai accompagnato una persona che non vede pensa che sia una cosa difficile che sia una cosa strana che sia una cosa per cui ci vuole una formazione ecco forse una formazione sarebbe necessaria in certi contesti ma camminare nel deserto o anche in altri sentieri di natura non richiede molto di più che il dialogo cioè due persone che si trovano affiancate a camminare e che condividono un pezzo di strada e si dicono reciprocamente i bisogni perché è chiaro che non sono solo e questa è una cosa importante da sottolineare i bisogni di chi cammina non sono solo quelli di chi non vede ma sono i bisogni di tutti quindi in un caso possono essere quelli di segnalare un ostacolo in un altro caso un po' di solitudine oppure di essere aggrappata al braccio destro perché si ha una tendinita al sinistro e via discorrendo quindi è proprio in questa condivisione reciproca che i cammini inclusivi alcuni dei quali vengono raccontati in questo libro sono secondo me una grandissima risorsa per ritrovare il contatto tra le persone che alle volte appunto viene visto come una difficoltà perché essere vicini toccarsi è diventato quasi difficile e lo era sicuramente negli ultimi due o tre anni dove era quasi vietato quindi torniamo a toccarci torniamo a camminare insieme facciamolo anche grazie a organizzazioni come la fondazione Silvia Parente e Noisy Vision che creano qui sono le due presenti di queste cinque storie chiaramente nelle altri casi delle storie vissute da Nicola ci sono altre organizzazioni che questo lo rendono possibile quindi in qualità anche di presidente di questa associazione vorrei orgogliosamente concludere dicendo che sì grazie al lavoro che noi facciamo costantemente e quotidianamente queste storie possono essere raccontate e questo libro diventa un giro di boa perché è un punto fermo perché possono essere di nuovo e costantemente diffuse grazie 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 grazie